Piange Napoli e 4 marzo 2013 sarà una data che i napoletani ricorderanno a lungo. Lo spettacolo apocalittico, peraltro visibile da molte parti del capoluogo campano, di città della scienza invasa dalle fiamme, rimarrà sicuramente impressa per molto tempo nella mente di tutti i cittadini partenopei. L'incendio per fortuna non ha causato feriti. Il lunedì è giorno di chiusura settimanale e all'interno della struttura non c'erano persone. Gravi invece i danni agli edifici. Si sono salvati dalle fiamme solo i muri perimetrali, mentre l'interno dei padiglioni è completamente devastato. Le fiamme si sono estese rapidamente, complice anche l'abbondante presenza di legno e altri materiali infiammabili all'interno della struttura. Il fronte del fuoco, che si è steso per oltre un centinaio di metri, è stato poi spento da decine di vigili del fuoco dopo ore di lavoro. Dei numerosi padiglioni che componevano la città della scienza, solo uno è stato risparmiato dalla fiamme. E così in pochi attimi è andato letteralmente in fumo un polo che era il fiore all'occhiello di Napoli. Nata dalle intuizioni di Vittorio Silvestrini a cavallo tra gli anni 90 e il 2000, città della scienza aveva guadagnato consensi e credibilità in pochissimo tempo, non solo come luogo dove apprendere praticamente le leggi della scienza, ma anche come centro congressi e centro di alta formazione. Intanto la procura della Repubblica di Napoli ha posto sotto sequestro tutta l'area di città della scienza. La polizia ha avviato indagini per accertare le cause del ruogo. Prende sempre più corpo la pista del dolo. Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Unica Channel. Cronaca. Agguato a Torre Annunziata. Un pregiudicato, Francesco Chierchia di 68 anni, è stato ucciso mentre si trovava in auto e stava percorrendo via Vittorio Veneto, nel centro di Torre Annunziata. I killer a bordo di una moto lo hanno affiancato e ucciso con alcuni colpi di pistola. Il commissariato di Torre Annunziata sta svolgendo le indagini e secondo quanto si è appreso da fonti della questura, Chierchia era ritenuto vicino al clan Gionta, storica cosca di Torre Annunziata. E passiamo alla politica. Non ci sarà alcuna conferenza stampa dei capigruppo del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi e Roberta Lombardi. Lo chiariscono i due che hanno ribadito, attraverso la chat del Movimento, quanto detto in campagna elettorale. Il Movimento 5 Stelle non può e non darà alcuna fiducia al governo dei partiti. Il governo lo individuerà il presidente napolitano. Altro non c'è da dire. Su un'ipotesi di governo tecnico, vediamo, prima lo facciano, poi il Movimento 5 Stelle deciderà. Dice Vito Crimi che aggiunge Non siamo la coalizione che ha vinto, sta a chi ha vinto e al presidente napoletano decidere. Esteri, le condizioni di salute del presidente venezuelano Ugo Chavez sono molte delicate, a causa di un aggravamento dei problemi respiratori provocati da una nuova e severa infezione. Lo ha reso noto il ministro per la comunicazione Ernesto Villegas. Nella nota si sottolinea inoltre che Chavez è stato sottoposto in questi giorni ad una chemioterapia il cui impatto è molto forte. E concludiamo con il calcio. Comincia oggi con l'attesissimo match tra Manchester United e Real Madrid la tre giorni europea che vedrà impegnate tre squadre italiane. Domani in campo la Juve contro i Celtic. Non dovrebbero avere problemi gli uomini di Conte contro gli scozzesi già battuti all'andata per 3-0. Giovedì in Europa League impegnate Inter e Lazio che sfideranno rispettivamente Tottenham e Stuttgart. Era l'ultima notizia, vi auguro un buon preseguimento di giornata.